Poi cosa succede? Questa è una delle prime difficoltà che abbiamo, quindi il lato chirurgico. Lato chirurgico è che dobbiamo mettere dei materiali artificiali dentro il corpo umano e sperare che attechiscono. Abbiamo già delle variabili là. Poi abbiamo le seconde variabili che sono i provvisori. E lì c'è la componente umana di comportamento dell'essere umano che non avendo avuto da tanto i denti, quindi gli mettiamo magari i denti fissi, avvitati, che fa, torna a casa e inizia a mangiare. Non capisce che è una ferita fresca, una frattura che deve tenere a riposo perché si saldi il callosio. Ci sono degli impianti che sono stati inseriti nell'osso, ma l'osso non è detto che sia mineralizzato ancora, quello deve guarire. Anzi, più delle volte abbiamo la curva proprio di indurimento dell'osso e una curva che dopo due settimane si ha il momento in cui l'osso è più tenero. Questa per esempio in altezza qua la durezza dell'osso attorno all'impianto e qua per esempio le settimane. Mettiamo il tempo. Qua prima settimana, seconda settimana, terza, un mese e poi così in avanti. Quando io metto gli impianti nell'osso, all'inizio sono magari a 35 N, possono arrivare fino a 100 N, dopo che si rompe l'impianto, se è più duro giri, spacchi tutto. Supponi che ha questa forza nell'osso l'impianto come lo metti. Prima settimana, seconda settimana, fa così e poi piano piano sale e diventa ormai integrato l'impianto. Questo perché? Perché l'osso quando fai una ferita, come tutte le ferite, si rimaneggia. All'inizio è la vita bella stretta nell'osso, poi attorno all'osso fa così blu e poi si rimineralizza. Durante questa fase di liquefazione, quella è la fase più critica, dove conviene avere, se sono esposti gli impianti, una barra che li unisce. Se il paziente durante questa fase mangia cibi duri, per esempio, ci possono essere micromovimenti, che fanno avere poi l'espulsione dell'impianto. Allora, sono state poi adottate anche nuove tecniche proprio per evitare questo tipo di problema, che è per esempio l'ossiodensificazione. Io quando metto l'impianto, se questo è il livello dell'osso, invece che forare, fare l'alloggio per la vite, questo è l'impianto che devo avvitare nell'osso, posso fare che cosa? Invece che togliere osso dove osso già non ne ho, posso allargare l'osso, lo posso il foro anche sottodimensionare. Le frese, faccio un foro più piccolo, come questo, e posso far girare le frese al contrario. Invece che tagliare, faccio compattare. E quindi che cosa faccio? Modifico la densità dell'osso, dove dovrò andare a inserire lo stop nel muro. Poi immaginate che ne sono a parete di polistirolo, mettete un tassello, quello non regge poi il quadro. Se avete il polistirolo, magari fate un foro in linea, poi iniziate a compattare, attorno a quel foro avrà un polistirolo più duro. Lì posso mettere il tassello e magari c'è probabilità anche che mi regge. Se io faccio questo che si chiama osso densificazione, cioè intanto un valore più alto di torque e in più fa così la curva. Non ho questo picco che va lì sotto. Noi l'abbiamo sempre fatto questo. Poi quando è uscita fuori la tecnica per venderti le frese da osso densificazione, le abbiamo lasciate lì. Perché ha detto, ma scusa, fai come sempre fatto, reverse della fresa quando vai a inserire. Basta, c'è un tastino che si chiama il reverse, che si usa quando ti si incastra il trappano. Allora vai al contrario. Nelle ultime frese facciamo sempre al contrario. Perché avendo tanti casi dove osso non ce n'è, avevamo capito e ci dovevamo inventare qualcosa per far tenere gli impianti. Avevamo già inventato l'osso densificazione, solo che non ci abbiamo fatto i soldi. Sull'osso densificazione abbiamo fatto il kit di frese.